Garlatti, cos'è questo il programma? 62, giusto? 61, 61, siamo sbagliati di un anno, grazie, è una bellissima testimonianza, grazie, l'ha conservata lei? E' sua? Benissimo, allora, forza, facciamo spazio perché stiamo per partire, i piloti intanto si tengano pronti perché tra poco il via lo do io a questo punto, facciamo una corsetta per entrare nell'auto e poi comincerà la sfilata vera e propria. Siamo pronti? Ho bisogno che mi diate il via perché credo che siamo ormai arrivati proprio al momento della partenza. Una citazione storica, questo tipo di partenza è a schieramento le mani, cioè da una parte le auto e dall'altra i piloti che come vedete fremono con il piedino per arrivare nelle auto. Allora, alla partenza, starter e il presidente dell'automobile club di Pescara, dottor Sartorelli, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Quindi, quando li alzo dalla bandiera, io darò il via e i piloti potranno raggiungere le auto. Attenzione! Diciamo tra qualche istante. Liberiamo ulteriormente la strada cortesemente. Fabio, accontati a me dai, posta. Andiamo?